Mi fa piacere, poi io sono baresi, in qualche modo, i miei nonni sono di Bari, quindi sono contento di essere ritornato così nella mia città, anche se non ci vengo spesso. Poi ho girato anche qui, quindi ho girato a Castel del Monte, quindi sono contento di essere qua e di avere... Mi fa piacere, un po' di emozione, si arriverà sul parco di un Petruzziani prima? Sì, ma non ci sono mai stato dentro il Petruzziani, quindi si sarà molto emozionato. Beh, sono stato... quando ho girato a Castel del Monte a Gioia del Colle, poi spesso venivo, le riprese le ho fatte nel 2014, quindi sono un paio d'anni. Eh, il cinema di cinema fanno bene questi eventi, sì, fanno bene. Diciamo, i festival di cinema sono sempre, insomma, un'occasione per far vedere al pubblico film che magari non si vedono abitualmente, quindi sono un'occasione per far scoprire anche opere che altrimenti non vengono valorizzate. Siamo sempre conosciuti, anche se, diciamo, non ci sentivamo spesso, non ci frequentavamo, però ci siamo conosciuti. Che ricordo ha di scoprire? Un ricordo di un grande cineasta, l'ho detto, non ci sentivamo spessissimo, però ho amato molto il suo cinema e sicuramente è tra i maestri del cinema italiano che mi hanno influenzato di più. Grazie.